bene allora io do il benvenuto a tutte e tutti voi ringraziandovi per avere deciso di usare del vostro tempo per partecipare a questo secondo appuntamento del corso di autoformazione come sempre orientata all'azione perché è il nostro motto e il nostro modo di procedere che attacca italia ha organizzato in questo autunno 2024 per approfondire i temi del municipalismo all'interno di una campagna che ormai va avanti da non poco tempo che è quella denominata riprendiamoci il comune un appuntamento quello rappresentato da questo corso mi presento sono roberto guaglianone faccio parte del consiglio nazionale di attacca italia un appuntamento questo qua che in qualche modo ci ci fa dire che cosa che facciamo una serie di approfondimenti teorici ma essendo per l'appunto qualche cosa di orientato all'azione cerchiamo di tenere particolarmente ancorato anche al tema della realtà attuale lo abbiamo fatto nella serata introduttiva nella lezione che è stata tenuta due settimane fa da Iolanda Bianchi che ci ha fatto un inquadramento teorico sul tema del municipalismo in particolare di quello che chiamiamo genericamente neomunicipalismo anche se poi gli approfondimenti su questo anche da parte della nostra relatrice sono stati tanti ed importanti bene questa sera abbiamo con noi francesco brancaccio che mi accingo a presentarvi che è dottore di ricerca in teoria dello stato e delle istituzioni politiche comparate presso la facoltà di scienze politiche dell'università la sapienza di roma attualmente è dottore di ricerca in scienze dell'informazione e della comunicazione presso la scuola di dottorato in scienze sociali dell'università di parigi pari huit vincent san denis e lavora sui beni comuni urbani come forma di resistenza e alternative all'urbanizzazione capitalista nell'era delle piattaforme digitali se ho sbagliato qualcosa francesco correggimi subito in modo tale che tutte e tutti abbiano una corretta informazione sul tuo curriculum io sono particolarmente contento di introdurre il tuo intervento perché è un tema che anche personalmente mi sta molto a cuore posso dire di avere molto approfondito la parte storica per quanto mi riguarda personalmente riguardante la comune di parigi e sono pertanto ancor più interessato ad una lezione quella che francesco ci terrà in cui non solo parleremo di che cosa è stata quell'esperienza ma soprattutto dell'attualità che quell'esperienza può rappresentare oggi soprattutto all'interno di un contesto come quello del municipalismo che abbiamo ci siamo presi un po' la briga di andare ad approfondire per cui io mi taccio abbastanza rapidamente vi chiedo ovviamente di tenere i microfoni rigorosamente silenziati per evitare che dobbiamo compiere atti un po' brutali di chiusura degli stessi nei vostri confronti durante l'esposizione di francesco ci sarà al termine della sua esposizione per l'appunto un tempo dedicato a soprattutto domande di approfondimento ci diamo come ho già detto a chi si è collegato anche prima un tempo massimo di termine della serata alle 19.30 che sforeremo solo nel momento in cui ci sarà la necessità di fare qualche piccolo approfondimento e comunque entro in oltre le 19.45 questa sessione è registrata per cui sarà disponibile sul canale youtube di attacchitalia nel giro di poco tempo così come è già disponibile la lezione di yolanda bianchi di due settimane fa e lo saranno tutte quelle successive di questo corso quando francesco terminerà il suo intervento vi spiegherò anche quali sono le modalità per poter interloquire con lui facendo appunto domande richieste di approfondimento di qualsiasi tipo per cui francesco brancaccio ti lascio molto volentieri la parola saluto di nuovo tutte e tutti i presenti e buona seconda lezione del nostro corso sul municipalismo grazie grazie a voi prima di proiettare le slide faccio solo delle piccole premesse innanzitutto vi ringrazio per questo invito credo che sia una scelta importante quella di collocare all'interno di una sequenza di di sessioni sulla dedicate al al municipalismo una una giornata una giornata di corso sulla comune di parigi perché effettivamente la comune di parigi possiamo diciamo in qualche modo qualificarla come una sorta di di fatto fondativo di evento genealogico della della pratica municipalista e comunalista per essere più precisi poi tornerò su questo e quindi diciamo che la premessa che voglio fare prima di le premesse che voglio fare sono le seguenti la prima è che tratterò la tematica della comune di parigi in relazione al problema del municipalismo costruirò costruito il questa questo mio intervento collocando la comune di parigi all'interno della galassia di problemi che la questione del municipalismo solleva non è l'unico modo per affrontare la tematica della comune di parigi quindi è già una diciamo posizione che vi annuncio e la seconda questione per quanto riguarda la sua attualità e invece riguarda alla mia situazione alla mia collocazione spazio temporale negli ultimi anni anzi da un po di anni lavoro e milito in francia e quindi diciamo il problema dell'attualità della comune di parigi è influenzato dal dibattito francese nel modo in cui ve lo ve lo restituirò e poi in in terzo luogo sarà un corso è un corso e non un seminario quindi ho preparato delle slide e farò un intervento in una modalità che quella propria di un corso non di slide per quanto riguarda i tempi con marco bersani avevamo concordato 35 massimo 40 minuti quindi vi ti chiedo a te roberto nel caso di segnalarmi se vado troppo oltre ma spero che appoggiandomi sulle slide e scusatemi anche per un certo schematismo che alcune questioni presenteranno se vado troppo oltre di segnalarmelo così mi avvicino alla chiusura però mi sono premonito anche di un cronometro e quindi adesso procedo con la condivisione del mio del mio schermo solo un attimo per poi cominciare ditemi solo se si vede sì ok va bene perfetto va bene ok e quindi ha un'altra cosa cominciando che Marco mi aveva sollecitato anche proprio a stare nella storia cioè a ricostruire anche se non posso che farlo in maniera veramente brutalmente schematica però di stare anche un po sulla ricostruzione dei fatti storici perché mi sembra importante tornarci anche perché non è che ci sono i fatti storici e c'è l'attualità ma i fatti storici della comune sono già attuali quindi diciamo che la questione dell'attualità si pone a partire già dalla ricostruzione storica questo è il piano del mio intervento diciamo diviso in due grandi parti la prima che definisco la comune in atto cioè lo inspiro da una affermazione di Marx che dice la più grande misura sociale della comune è la sua stessa esistenza in atto in azione al di là quindi delle misure che anche vedremo è proprio la comune in quanto evento storico politico che caratterizza la storia francese europea a parlarci all'oggi vedremo perché quindi questa prima parte sarà divisa tra le premesse alcune premesse che possono spiegarci l'insurrezione del 18 marzo del 1871 poi quello che l'Efevre definisce il calendario della comune ho selezionato alcuni eventi, alcune giornate chiave il programma della comune e poi la settimana di sangue, la semen sanglante che è uno dei fatti più tragici della storia del movimento operaio rivoluzionario dell'ottocento e poi invece nella seconda parte entrerò proprio nel merito di questo discorso sull'attualità e sull'attualizzazione della comune interrogandomi su alcuni aspetti che sono stati riscoperti, rievocati, riattualizzati nei movimenti attuali e nel dibattito della sinistra nell'ultimo decennio in particolare, poi ci torneremo però, mi interessa il tema della forma politica mi interessa anche il tema della rivoluzione urbana che sono i due grandi filoni che hanno permesso della rivoluzione urbana e del diritto alla città cioè le tematiche lefevriane che vengono poi riprese anche nel dibattito anglosassone come vedremo, che sono le due grandi linee di attualizzazione della comune e poi quindi arriveremo alla tematica del corso municipalismo e comunalismo vedendo anche quelle che sono le affinità e le divergenze tra queste due definizioni che non sono coincidenti e poi delle parole conclusive sulla comune nel dibattito della sinistra francese ma la farò veramente breve allora, di solito si fa la fine ma dico subito quali sono le fonti principali che ho consultato sono fonti, a parte quella, la prima che vedete che è una fonte assai antica perché la prima edizione di questa Histoire de la Commune è uscita una decina di anni dopo la fine della comune di Parigi le altre due, quella di Ludivine Bantigny e quella di Christine Ross sono invece molto recenti questa di Ludivine Bantigny è un libro di storia molto bello che è uscito per il centocinquantesimo anniversario della comune del 2021 che purtroppo era infettato dal virus quindi non ha avuto la visibilità che meritava anche se diciamo che al di là delle celebrazioni rituali come vedremo la comune vive anche al presente nelle lotte contemporanee e quindi questo libro è molto bello perché è scritto sotto forma di una relazione pistolare tra l'autrice che è una storica militante e i protagonisti della comune e poi vabbè, tre fonti più classiche la prima è l'insieme degli scritti che Marx e Engels dedicano alla comune di Parigi quindi non solo la guerra civile in Francia ma anche delle corrispondenze e delle diatribe degli indirizzi all'Associazione Internazionale dei Lavoratori così come anche delle diatribe pistolari sulle questioni che riguardano le potenzialità e i limiti della comune e poi questo grande libro che purtroppo non credo sia tradotto in italiano di Henri Lefebvre pubblicato nel 66 e ripubblicato recentemente la proclamazione della comune che è forse il libro più bello che ho letto sulla comune e questo ultimo di Devi Darvi l'ho utilizzato più che altro per comprendere dal punto di vista del municipalismo cioè della problematica della città il periodo che precede l'avvento della comune vabbè vi ho mostrato qui le versioni francesi o le edizioni francesi perché sono quelle che ho utilizzato quindi andiamo alla prima parte del mio intervento ed ecco le premesse della comune come vedete schematizzo davvero è chiaro che non possiamo soffermarci troppo sulle premesse della comune anche se la comune non è spiegabile se non si tiene in conto di ciò che accade tra il 48 e il 51 cioè della risposta verticale e autoritaria che viene data alla rivoluzione del 48 una rivoluzione fatta da utopisti borghesi e dai primi settori del proletariato parigino e francese al quale segue una repressione una rivolta una rivolta una rivolta una chiede l'affermazione l'instaurazione della repubblica sociale alla quale viene fatta corrispondere invece una risposta diciamo di verticalizzazione del potere dello Stato che caratterizza diverse fasi della storia francese e che ha diciamo come momento forse classico proprio questo del colpo di Stato di Luigi Bonaparte che l'anno seguente nel 52 dichiara il secondo impero secondo impero che alcuni storici dividono in una fase liberale in una fase autoritaria una fase più liberale secondo impero che può essere caratterizzato senza dubbio per da un lato un progetto di modernizzazione e di industrializzazione molto forte del paese un intervento che prevede anche degli importanti lavori infrastrutturali all'estero il secondo impero contribuirà alla costruzione della rete ferroviaria in Europa così come ai lavori del canale di Suez farà diverse spedizioni militari fra cui quella in Messico che è molto importante quindi avrà una vocazione militare verso l'esterno abbastanza pronunciata così come una vocazione repressiva verso l'interno ma nello stesso tempo sarà anche un esperimento di stato sociale autoritario David Harvey dice verranno messe in pratica le prime forme di kinesismo antelitteram in qualche modo ma accompagnate da un pesante da una pesante strutturazione autoritaria dei poteri dello Stato e del trattamento del movimento operario dell'epoca questo stato sociale autoritario in particolare ha il suo laboratorio di sperimentazione precisamente in Parigi la Parigi di Haussmann che è la Parigi che Harvey definisce capitale della modernità la Parigi nella quale vengono istituiti le prime istituzioni del credito mobiliare e immobiliare e nel quale una parte importante del centro di Parigi viene Rasa i faubur e le piccole le piccole agglomerazioni del centro di Parigi dove si concentrava il proletariato le classi popolari vengono Rasa al suolo al posto di questi faubur e di queste agglomerazioni popolari vengono costruiti dei grandi boulevard i documenti dell'epoca dicono che quando gli architetti dicevano presentava da Haussmann dei progetti di 40 50 metri quadri di questi boulevard Haussmann rispondeva no li voglio più larghi li voglio di 120 130 metri di larghezza e c'è anche una lettura politica di questa ristrutturazione di Parigi che diventa la città dei bar dei commerci dell'industria della moda che si modernizza ad una velocità importante e c'è anche una lettura politica cioè che questa riorganizzazione urbanistica autoritaria di Parigi era fatta precisamente anche per neutralizzare questo popolo rivoltoso e fortemente indisciplinato nei confronti del potere politico e quindi diciamo che questi eventi sono assolutamente fondamentali per comprendere poi il declino dell'impero che passa anche per nel 1866 una crisi degli istituti bancari europei che avrà una pesante ricaduta in Francia e quindi il sistema che era stato istituito da Haussmann crolla Haussmann viene destituito da Napoleone Napoleone pensa bene come spesso accade nel corso della storia non solo francese di rispondere a questa crisi con una nuova guerra con una guerra che viene ingaggiata in maniera abbastanza avventata e disastrosa nei confronti della Prussia guerra che dura meno di un anno e che addirittura si conclude con la sconfitta di Sedan nella quale lo stesso Napoleone III viene fatto prigioniero e quindi ci troviamo nel contesto della comune nella quale Parigi chiaramente scusate procedo veramente con estrema velocità ma la sconfitta francese a Sedan provoca come conseguenza il crollo dell'impero e la proclamazione il 4 settembre del 71 della Repubblica della Repubblica della Repubblica della Terza Repubblica Francese ma che cosa accade in questo in questo contesto scusate il 3 del 4 settembre 70 che cosa accade in questo contesto in questo contesto accade che Parigi è assediata che il governo che si istituisce il primo governo che si istituisce che si convoca prima a Bordeaux e poi si trasferisce quasi come se fosse una provocazione a Versailles quindi proprio nel tempio dell'anzier regime è capeggiato da da questo da questa figura Thier che è una figura che è ben conosciuta dalla dalla dai parigini ma e non solo per esempio anche da dai lionesi visto che Thier ha avuto un ruolo fondamentale nella ripressione della rivolta dell'insurrezione di Canù negli anni trenta a Lione quindi una figura assolutamente problematica per segnare simbolicamente materialmente una discontinuità con il secondo impero e Parigi si trova quindi si trova quindi circondata da si trova circondata da questo da un lato dall'esercito del prussiano della Prussia di Bismarck che vuole disarmare Parigi e vuole entrare a Parigi e dall'altro dagli stessi dallo stesso governo di Versagliesi che nello stesso tempo fa eleggere un'assemblea nazionale nella quale la componente dei monarchici è maggioritaria nella quale la componente che in qualche modo rischia di mettere in discussione fin da subito l'evoluzione della terza repubblica è maggioritaria e quindi in questo contesto avrei dovuto mostrarvi prima questi erano i grandi piani di Haussmann di Parigi che mostrano in qualche modo come Parigi è stata trasformata nel corso del secondo impero e poi appunto un'altra cosa che bisogna considerare nei termini delle premesse della comune di Parigi è questo il tessuto socio-economico di Parigi diciamo per utilizzare una terminologia operaista la composizione tecnica del lavoro che caratterizza la Parigi preinsurrezionale della fine degli anni 60 è una composizione caratterizzata per lo più dalla prevalenza di artigiani operai siamo ancora lontani dall'operaio della grande fabbrica in sostanza come si vede anche in questa foto che ho ripreso di un capitolo dedicato proprio alla ricostruzione dei dati socio-economici da parte di Lefebvre della Parigi del secondo impero Parigi è caratterizzata da una struttura produttiva dominata da una piccola impresa da una costellazione di atelier gli operai sono per lo più operai che lavorano in imprese che non superano le 5 massimo 10 unità sono operai che soprattutto sono impiegati nella produzione di beni di consumo c'è una forte componente anche di commercianti di artigiani diciamo che siamo in quella che Marx avrebbe definito una fase di sostituzione formale del lavoro al capitale e quindi questo tipo di composizione credo che in parte ci serva anche senza alcun determinismo per spiegare il modo in cui la comune di Parigi si dà le sue proprie istituzioni e la sua propria forma politica e poi quest'altro aspetto che è il tessuto associativo e mutualistico della Parigi della fase declinante del secondo impero che è assolutamente fondamentale una società fortemente politicizzata nella quale c'è una costellazione di associazioni immense popolari società di mutuo soccorso i club che sono i luoghi proprio della politicizzazione della società quindi diciamo per quanto un evento non possa essere spiegato semplicemente con la somma delle cause che lo provocano io credo che questi siano elementi assolutamente fondamentali da mettere in luce e quindi arriviamo alla comune vera e propria bisogna considerare anche un altro aspetto la situazione di profonda precarietà e di profondo malessere in cui si trova il popolo di Parigi nei mesi che precedono lo scoppio della comune qual è l'evento che diciamo dà vita a questa insurrezione popolare il governo di Thier i versagliesi firmano due mesi prima l'armistizio con i prussiani e i prussiani vogliono entrare a Parigi vogliono entrare a Parigi e soprattutto vogliono vogliono che i Parigi il popolo parigino che è armato è armato perché in diversi punti di Parigi tra cui Montmartre che è quello più conosciuto sono posizionati dei cannoni che i parigini hanno acquistato con una sottoscrizione popolare per difendere la città dall'assedio quindi Parigi è in una situazione di stato di assedio e il governo di Thier invia dei battaglioni di soldati a recuperare questi cannoni e nella sera nell'alba del 18 tra il 17 e il 18 un gruppo di parigine guidate da Louise Michel che è una delle figure più note della comune bloccano la requisizione dei cannoni è la cosa più importante che una parte importante della guarda nazionale nonostante l'ordine dei generali di tirare sulla folla si rifiuta e al contrario fraternizza quindi diciamo che il 18 marzo anche se c'è già un primo ferito della comune è un giorno veramente di esplosione di una festa popolare di una festa con questo carattere di festivo della comune di Parigi nonostante la sua drammaticità è messo in luce da tanti autori che hanno studiato la comune di Parigi e quindi a questo punto possiamo mettere in luce quelli che sono gli aspetti più importanti purtroppo dobbiamo veramente andare in maniera molto stringata e veloce la cosa importante è che il 26 marzo quindi puoi capire bene dopo neanche otto giorni si eleggono si convocano le elezioni della comune di Parigi dopo che l'hotel de Ville è stato preso dalla guardia nazionale guardia nazionale all'interno della quale c'erano già delle forme di democrazia popolare che si sperimentavano il nome i federe deriva da una componente della guardia nazionale i federati che hanno giocato un ruolo assolutamente fondamentale all'interno dell'esercito e della disobbedienza che delle componenti importanti dell'esercito hanno messo in atto nei confronti degli ordini dei versagliesi e quindi si elege questo consiglio municipale rivoluzionario nel quale ci sono dal punto di vista politico delle componenti radicali socialiste ci sono i blanchisti ci sono i prudognani ci sono quelli che vengono ancora definiti come giacobini ci sono i membri dell'internazionale quindi c'è una pluralità anche di culture politiche dal punto di vista quindi della composizione politica dell'assemblea della comune e questi sono i cannoni a Montmartre prima che vengano prima che vengano presi dal popolo parigino questa invece è proprio il giorno del 26 marzo della proclamazione della comune all'Hotel Deville questo è il documento ufficiale nel quale si proclama la comune nel quale vedete che la prima questione che si pone è quella degli alti funzionari cioè gli alti funzionari che hanno lasciato l'amministrazione parigina per andarsene a Versailles che vengono sostituiti con della gente comune che quindi il primo atto della comune è un grande atto di democratizzazione dell'amministrazione nel quale il problema dell'amministrazione viene posto come un problema rivoluzionario cioè lo scardinare le gerarchie l'iperprofessionalismo dell'amministrazione e quindi andiamo poi dopo la convocazione della comune sarebbe interessante anche vedere la composizione diciamo dal punto di vista delle professioni dei mestieri della comune quello che si diceva durante questa brevissima campagna elettorale che bisognava votare non quelli che avevano più sete di potere ma quelli che vota chi ti somiglia di più c'era questa un po' l'indicazione che accompagnava la campagna elettorale ci sono infatti all'interno del consiglio della comune degli artigiani ci sono anche dei medici ci sono anche degli accademici ma soprattutto sono delle figure operaie che compongono la comune la comune non introduce il suffraggio universale per le donne cioè non introduce il diritto di voto per le donne per quanto è caratterizzata comunque come un'esperienza nel quale le donne abbiamo già visto lui e Michel hanno un protagonismo assolutamente fondamentale in particolare nella costituzione dell'Unione dei Femme e questo gruppo tra l'altro molto vicino anche a Marx che sostanzialmente faceva un lavoro mutualistico e di cura che mette al centro di questo enorme processo di politicizzazione della società la questione del lavoro femminile del lavoro domestico del lavoro di cura e quindi questo è un aspetto genealogico abbastanza importante questo che vi sto mostrando qui è uno dei primi decreti della comune nel quale vengono sospesi alcuni affitti cioè questa è una delle interpretazioni della comune in quanto diritto nella città uno dei primi decreti è l'annullamento di alcune la restituzione della caparra perché la popolazione parigina versava in una situazione di indigenza assai importante si mangiavano i topi e la città era sotto assedio furono mangiati persino gli animali del parco zeologico mancava praticamente di tutto quindi bisogna considerare in che contesto venne questi 72 giorni della comune si svolgono un contesto di assedio da parte dello straniero soprattutto di guerra civile tra i parigini e tra il proletariato parigino perché una parte importante dell'alta borghesia aveva già lasciato la città questo è un aspetto che anche Marx nota cioè la città era rimasta proprio in mano autogestita autogovernata dalle classi popolari e dalle classi medie e quindi vediamo quello che è conosciuto come il programma sociale della comune che possiamo individuare solo per così in maniera molto schematica il primo grande aspetto è l'aspetto della democrazia diretta del controllo popolare cioè la comune mira a instaurare un governo municipale secondo dei principi di democrazia diretta c'è tutto un dibattito poi se su questo modello di governo municipale fosse perfetto o perfettibile però diciamo che questo è un po' uno degli elementi su cui la comune viene riconosciuta come una grande un grande laboratorio anche per 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 il futuro e quindi poi c'è la questione della separazione tra la chiesa e lo stato e una serie di tematiche che sono quelle della disalienazione dell'emancipazione dal lavoro e del lavoro questo è uno dei grandi temi della comune e quindi l'abolizione del lavoro notturno nelle panetterie che è una delle nelle boulangerie che è una delle una delle cose più conosciute ma poi in realtà si mirava ad estendere la riduzione dell'orario di lavoro e soprattutto la riduzione dell'orario di lavoro per i lavori più penibili più soprattutto anche per altre categorie ma non non ci fu il tempo per farlo veniva istituzionalizzata la creazione di cooperative operaie veniva istituita la parità salariale c'è qualcuno che ha il microfono aperto sento un veniva istituita la parità salariare per i funzionari pubblici allora e quindi poi l'abolizione dell'esercito permanente questa è una delle grandi tematiche che secondo anche sia Marx che Lenin in stato di rivoluzione fanno della comune un fenomeno a carattere rivoluzionario cioè il fatto che viene smantellata la coscrizione obbligatoria e al suo posto viene ricostruita vengono ricostruite delle sezioni dell'esercito attraverso i cittadini in armi insomma c'è quindi questo mito repubblicano dell'autogoverno anche dal punto di vista della rimessa in discussione del monopolio della forza legittima che caratterizza questa esperienza poi l'istruzione gratuita e laica come lo dicevo prima l'union des femmes l'unione delle donne la requisizione degli appartamenti sfitti di chi aveva lasciato Parigi andandosene rifugiandosi o a Versailles o altrove un progetto di riforma giudiziaria molto interessante perché oltre ad affermare l'indipendenza della magistratura affermava anche il principio del controllo democratico dell'azione della magistratura il controllo popolare dell'azione giudiziaria e poi un altro dei caratteri assolutamente fondamentali della comune è il suo internazionalismo cioè si possono anche poi annoverare dei fatti simbolici per esempio alla Bastiglia c'era la bandiera rossa cioè la bandiera rossa è proprio il drappò della comune ed è interessante vedere come quest'elemento che c'è all'inizio di patriottismo perché comunque c'è lo straniero che sta assediando la città quest'elemento di patriottismo assume immediatamente un carattere internazionalista tanto che nelle principali funzioni amministrative militari politiche della comune ci sarà un ampio spazio per tutti gli immigrati cosa che i versagliesi nei dibattiti che sono ricostruiti dagli storici considerano questa come una delle cose più vergognose cioè il fatto che dei lavoratori stranieri fossero stati messi al posto di questi alti funzionari e fossero stati messi alla direzione della capitale francese e quindi questo carattere internazionalista è molto importante e quindi c'è un patriottismo che assume immediatamente un carattere internazionalista e poi arriviamo purtroppo solo procedendo per salti perché è di una tale intensità quei 72 giorni sono di una tale intensità che quando ci si mette a leggere i materiali di archivio eccetera ci si immerge e ci si perde anche un po' la settimana di sangue è la settimana in cui i versagliesi riescono a sfondare penso a Port Cluny entrano riescono a sfondare le barricate ed è come dice Marx uno degli esempi più drammatici di cosa può la borghesia quando deve difendere i suoi interessi la borghesia dell'epoca insomma ci sono tra i 20.000 e i 30.000 comunardi uccisi in maniera sommaria i racconti dell'epoca dicono che non c'è strada di Parigi in cui non ci sono corpi ammassati ci sono se andate in vacanza a Parigi quando andate ai Giardins di Luxembourg oppure nei Giardini dei Tuelleri vicino all'Uvra ricordatevi che sotto nella terra c'erano le fosse comuni dei comunardi schiavate per sotterrare decine di migliaia di comunardi e di comunarde che sono stati uccisi in maniera sommaria circa 100.000 arrestati e decine di migliaia all'estero spediti all'estero oppure deportati in nuova Caledonia una delle colonie francesi ancora adesso territorio d'oltremare della Francia in cui ci sono stati dei movimenti importanti anche negli ultimi anni negli ultimi mesi anche e questo è un fatto diciamo forse in passant da segnalare cioè che tanti tante figure artistiche letterarie che conosciamo un po' più mainstream per l'epoca come Emile Zola o George Sand avallano in maniera assolutamente brutale il massacro della comune l'unico tra i grandi che si schiera con la comune anche se non partecipa direttamente sarà Victor Hugo che infatti sarà costretta ad esiliarsi a Bruxelles dove darà anche rifugio a tanti comunardi tra cui a Bruxelles c'è anche Luis Michel che riusciranno a scampare alla repressione qui abbiamo delle immagini questa è l'immagine di Parigi che da un lato ci sono l'incendio dei palazzi una cosa che ha scandalizzato anche la memoria storica della comune l'incendio dei palazzi fatto da parte dei comunardi per rallentare l'avanzata dei versagliesi e dall'altro ci sono le cannonate dei versagliesi dove si vede il fumo più nero questo è un ritratto abbastanza incredibile che si trova un dipinto che si un dipinto che si trova al Musée d'Orsay che raffigura una delle strade di Parigi e immaginiamoci tutte le strade di Parigi con questo tipo di situazione e quindi diciamo chiudo la prima parte e proverò a essere più breve sulla seconda per facilitare un dibattito sono a 32 minuti ho visto e la prima parte chiudo solo dicendo altre cose non c'è stata solo la Comune di Parigi la Comune di Parigi è stata accompagnata da 5, 6, 7 altre comuni tra cui Lione Marsiglia se ne parla molto meno hanno avuto meno impatto ma la Comune di Parigi non era Parigi contro il resto del mondo ed è per questo anche che ella si considera come un esempio di riorganizzazione in forma comunale dello Stato perché in realtà e in più la Comune di Parigi se si vede nei lavori di archivio fa continuamente appello anche alle campagne le campagne quindi cerca anche di superare questa che è una delle caratteristiche davvero distintive basta vedere anche i risultati delle elezioni legislative di qualche mese fa di questa pesante divisione tra città e campagne tra metropoli e campagne che caratterizza la società francese più che altre non dico che sia un fatto esclusivo della società francese però e quindi non va considerata come un evento isolato perché in realtà era proprio un movimento di autonomia di autogoverno che faceva secessione dal governo centrale in queste condizioni estreme difficili che abbiamo descritto e la seconda cosa che adesso si comincia a fare anche un legame più o meno ideale più o meno solido tra la Comune di Parigi è l'insurrezione che accade nello stesso periodo nella principale colonia francese dell'epoca che è l'Algeria nei cui nella Kabilina i Kabil i Berberi mettono in atto la prima insurrezione anticoloniale nei confronti del governo francese e quindi diciamo c'è anche questo legame che è stato riscoperto per esempio negli studi che sono stati prodotti negli ultimi anni nei quali si dice la Comune parlava sia al resto della Francia ma anche c'era questo collegamento con una rivolta anticoloniale per arrivare alla seconda parte quindi la Comune al presente questa è un'immagine di un gilet jaune che è un giovane gilet jaune che ha un gilet in cui c'erano tanti gilet durante questa rivolta abbastanza imprevista e intensa del movimento dei gilet jaune in cui c'erano dei gilet che richiamavano la Comune di Parigi divertente questo slogan che era stato elaborato dall'Assemblea dei gilet jaune di Belleville fine del di un mois sarebbe fine del me stesso è début di un e si gioca tra il mois come fine del mese fine del me ed è un po' questo spirito comunalista che attraversa i movimenti francesi e quindi la prima parte lo faccio ovviamente in maniera molto schematica è la questione della forma comune come appunto dice Marx la comune è la forma politica finalmente scoperta finalmente scoperta senza doverla mitizzare senza doverne fare un archetipo un archetipo del modello perfetto perché le imperfezioni erano tante per esempio non vi ho messo in luce un limite viene messo in evidenza sia da Marx ma anche da ma anche da Lefevre e da molti altri cioè il fatto che i comunardi non hanno preso la banca la banca di Francia c'è stato un grande dibattito su questo comunalizzare la banca francese avrebbe la banca di Francia avrebbe permesso di avere più risorse per rispondere ai versagliesi si dice che Lenin quando dopo l'ottobre 17 la rivoluzione aveva superato i 72 giorni abbia festeggiato perché c'era però la comune rimane da un lato l'esempio di democrazia espansiva il più forte il più il più limpido il più intenso che si sia conosciuto con un carattere antitetico come diceva sempre Marx alla forma politica dell'impero c'è questo passaggio bellissimo di Marx dice la forma la forma della comune è l'antitesi della forma dell'impero e quindi bisogna assolutamente non siamo dentro tutto ciò che poi è connesso alla storia del socialismo reale alla statalizzazione della rivoluzione alla trasfigurazione della rivoluzione in un potere separato la comune è proprio il tentativo di rimettere in discussione questo tipo di modello che all'epoca era incarnato dall'impero e poi dalla reazione dei versagliesi e quindi bisogna insistere su questo aspetto di democrazia come processo aspansivo e non solo come una forma di governo come un processo conflittuale che rinnova le stesse forme di governo Negri avrebbe parlato di potere costituente in qualche modo una teoria quindi è una pratica del dualismo di potere o meglio di una moltiplicità di doppi poteri perché questo non è solo un dualismo di potere tra il governo di Parigi e il governo nazionale dei versagliesi ma anche all'interno delle varie istituzioni che la comune si dà c'è un dualismo di potere e delle forme di controllo dell'azione degli eletti e quindi la questione del mandato imperativo che chiaramente entra in contraddizione con uno dei principi fondativi delle democrazie liberali cioè la libertà di mandato la responsabilità fiduciaria dell'eletto però è quello uno degli elementi che caratterizza diciamo nella sua forma più pura anche le teorie e le pratiche del municipalismo e del chiaramente mandato imperativo che deve essere sottoposto a sua volta il controllo del mandato imperativo delle forme di democrazia orizzontale non come abbiamo visto delle forme di distorsione nel caso in Italia dei 5 stelle dove c'è un piccolo Napoleone garante che prova a gestire il mandato imperativo in maniera abbastanza monopolistica e quindi la questione della disarticolazione dello Stato come apparato specializzato burocratico e separato della società e quest'altro aspetto assolutamente fondamentale che è l'inseparabilità della democrazia politica e della democrazia economica questo è uno degli elementi caratterizzanti della Comune di Parigi che ha influenzato anche il lavoro a cui ho partecipato con Vattimo Giuliani Vercellone pubblicato in Italia per ombre corte sul Comune come modo di produzione e sulla tesi del Comune come modo di produzione che quindi mette insieme il livello politico e il livello economico della democrazia e poi l'ultima questione è la questione del centralismo e del federalismo che è uno dei grandi dibattiti che divide prudoniani e marxisti io credo che questo dibattito vada preso anche in maniera storicizzata e per alcuni aspetti credo che oggi nella letteratura e nella pratica del municisparlismo del comunalismo sia ampiamente superato cioè io capisco perché Marx all'epoca e soprattutto la lettura che Lenin fa della Comune di Parigi oppone un carattere centralistico dell'Assemblea del Consiglio al federalismo prudoniano federalismo prudoniano che in alcune fasi dello sviluppo del secondo impero era sembrato quasi arrivare a delle convergenze con alcune politiche sociali del secondo impero quindi però dobbiamo assumerlo anche nella sua storicità nel senso che il principio federativo è un principio che può permettere anche dei fenomeni di comunalizzazione e di trasformazione della proprietà in proprietà comune proprietà collettiva cioè Marx il problema che poneva era il problema di come la proprietà venisse potesse essere tradotta in proprietà comune secondo le analisi dell'epoca questo si poteva fare solo attraverso un principio di centralismo e non attraverso un principio di federalismo credo che questo aspetto del centralismo e del federalismo sia stato completamente ridefinito dai movimenti attuali mettendo in conto che comunque il problema del rapporto tra l'orizzontalità e la verticalità rimane come un problema aperto qui posso anche probabilmente provare sto arrivando verso la fine quindi non vi preoccupate la comune come rivoluzione urbana questo è il secondo grande aspetto che ha caratterizzato i movimenti in particolare il ciclo 2011 2012 fino ad oggi quindi abbiamo una tesi della interpretativa della comune di Parigi come una rivoluzione urbana come un urbanesimo rivoluzionario dicevano i situazionisti che dialogano e poi litigano con le fevre opposto all'urbanesimo autoritario di Haussmann e di Napoleone III di Napoleone il Le Petit il piccolo come lo definiva Victor Hugo che sostanzialmente mostra che la rivoluzione della comune di Parigi è anche una nostalgia per la città che è stata espropriata ma anche un'apertura verso delle modernità socialiste alternative alla modernità capitalista che in maniera pesante veniva introdotta con la ristrutturazione dell'epoca e quindi la comune di Parigi non è solo una contraddizione temporale ma è una contraddizione spaziale per le fevre c'è questo tema della spazialità che poi diventa assolutamente centrale nei movimenti che si esprimono a partire dal ciclo Occupy Indignati Nuit de Buon in Francia e poi c'è un altro tema che può essere assolutamente attuale che è quello dei commons urbani cioè il pensare la proliferazione dei commons urbani nella città e nelle metropoli oggi a partire da un'ipotesi appunto federativa che permetta quindi di immaginare quelle che sono le basi materiali di un progetto municipalista o comunalista piccola precisazione affinità e divergenze tra il municipalismo e il comunalismo qui riferendomi ad una bella intervista dibattito tra Pier Sovetre e altri autori che si sono occupati del tema vi propongo una distinzione tra il municipalismo che è stato già introdotto da Yolanda alla giornata precedente del corso e il comunalismo io sono meno netto anche di questo articolo che vi cito nel fare la distinzione nel senso che io credo che il municipalismo possa essere anche una strategia in vista del comunalismo ci sono alcuni aspetti che indicano una convergenza allora che altri aspetti indicano invece una differenza diciamo che il municipalismo precisamente come lo riporto qui è fondamentalmente in parte in continuità con la tradizione del socialismo municipale e in parte rappresenta come Yolanda l'ha precisato la scorsa volta una pratica politica nuova un modo nuovo di fare politica assolutamente ispirato dai principi dell'ecologismo e della femminilizzazione della politica in stretto rapporto con i movimenti sociali che prova ad introdurre delle politiche diciamo potremmo definire di riformismo radicale su scala municipale il comunalismo di cui parlerete anche immagino dalle prossime giornate di corso parlando sia del Chiapas che del Rojava è invece una teoria del doppio potere e di un governo comunalista che va oltre la scala l'unità di base della comune se voi leggete gli scritti di Bocchin che poi hanno anche una grande capacità di mettere in relazione tematica comunalista ecologia sociale il suo è un modello complessivo cioè è un modello complessivo che immagina l'unità di base della comune e poi una confederazione nel quale le istanze esecutive vengono risolte all'interno di un'organizzazione confederale quindi Bocchin non è un puro orizzontalista cioè Bocchin si pone il problema del riassetto complessivo delle istituzioni ma immagina anche una doppia strategia cioè una strategia che è quella da un lato di andare alle elezioni municipali presentare delle liste e dall'altro però dice questo tipo di strategia non può essere separata dal costruire istituzioni alternative che controllano dall'esterno l'azione degli rappresentanti del progetto comunalista all'interno delle istituzioni che devono essere sottomessi a delle forme di controllo e di revocabilità e quindi vedete bene che nel momento in cui c'è stato questo dibattito è veramente chiuso persistenza e attualità della comune di Parigi nei movimenti francesi c'è stato prima la nuit de vue fra il 2015 e il 2016 nel quale c'era questa evocazione soprattutto era in forma di immaginario della commune era soprattutto una pratica di assemblearismo totale nel senso che la commune è stata veramente la nuit de vue è stata veramente 40 giorni di democrazia orizzontale portata all'estremo nel quale la democrazia non era solo una modalità di discussione di deliberazione ma era anche una forma di azione ma soprattutto questo dibattito su municipalismo e comunialismo è stato nel solco dell'assemblea delle assemblee della commune de commune di commerci che si è sviluppato in maniera più compiuta all'interno del movimento dei gilets jaunes ed è adesso non ho tempo per entrare nei dettagli vi rinvio a due articoli mi permetto di rinviare a due articoli uno che ho scritto con Marta Camei e l'altro che è una sorta di dialogo con il primo è stato pubblicato su Dinamo Press e il secondo su Global Project nel quale visto che avevo ero stato delegato anche all'assemblea delle assemblee ho fatto una sorta di analisi reportage nel quale mostro in che modo questa democrazia diretta veniva messa in pratica da una componente specifica dei gilets jaunes che però era abbastanza ampia perché racchiudeva 4-500 comitati locali che venivano da tutti i territori della Francia quindi non era una cosa diciamo di poco conto e purtroppo la fase del Covid ha pesantemente chiuso questa esperienza perché le elezioni municipali in Francia si sono tenute tra il primo e il tra prima e dopo il confinement come lo chiamavano qui più duro e quindi è stata questa prospettiva municipalista è stata indebolita anche se ci sono state delle esperienze assolutamente importanti come per esempio a Nantes nella nella città di Nantes dove si è creato questo collettivo municipalista di Nantes in comune e altre esperienze a Montpellier a Lille che lavora molto sul terreno del comunalismo io faccio questa distinzione perché in Francia è molto importante farla nel senso che quando si dice comunalismo e municipalismo non si parla della stessa cosa per quanto i due livelli siano tra di loro in relazione in dibattito e a volte anche diciamo non convergenti nelle strategie per quanto io insisto sugli aspetti di convergenza tra queste due strategie e poi velocemente c'è un'evocazione della comune anche nei movimenti ecologisti dalla ZAD di Notre-Dame de Lange fino agli attuali sull'Evmont de la Terre nei quali è una proliferazione di ZAD nelle zone rurali che si rifanno in maniera esplicita alla comune intesa come una sorta non solo di forma politica ma anche di forma di vita e infine una domanda che pongo e questo in vista anche delle prossime municipali in Francia che saranno la prossima primavera se non si sovrapporranno con un secondo scioglimento dell'Assemblea Nazionale fatta dal nuovo piccolo Napoleone attuale ed è quale rapporto tra la prospettiva municipalista e comunalista e quella del nuovo Front Populaire nel quale c'è più che altro un'evocazione di alcuni elementi che vengono rinviati a quella dimensione di Republique Sociale della comune e nello stesso tempo nel progetto in particolare della France en Sous-Mins che è il progetto che più si ricollega alla comune c'è questa idea della CCM Republique e quindi questa CCM Republique cioè superare la Quinta Repubblica che a sua volta è una repubblica autoritaria per molti aspetti lo si sta vedendo anche nel modo in cui è stata data la risposta alle elezioni di giugno in che modo quindi si articola questo progetto di CCM Republique con una prospettiva municipalista e comunalista è un tema di dibattito ed è un tema assolutamente fondamentale da sviluppare che sarà sviluppato nei mesi a venire chiudo quindi con questa bella citazione che però per leggerla devo devo togliere il il grande schermo la comune è una è un passaggio di Daniel Ben Saeed che penso sia in italiano anche pubblicato in politiche di Marx scusate se non ho avuto il tempo di trovare le versioni in italiano perché ho lavorato su questi testi in francese che cita a sua volta Lefevre perché poi è utilizzata come un'introduzione al libro di Lefevre e ci dice la comune è un evento politico complesso nel quale si articolano e si annodano dei tempi e degli spazi discordanti e altrettante motivazioni politiche strettamente legate un movimento di rivolta patriottica contro l'occupazione straniera un sollevamento dell'opinione pubblica una rivolta dell'opinione pubblica dell'opinione repubblicana contro Versailles un movimento di ribellione contro lo stato parassitario un movimento rivoluzionario contro la borghesia e il capitale è un precipitato di contraddizioni di contraddizioni multiple e presenta altrettanti possibili la comune ha anticipato in atto sul possibile e l'impossibile e più giù per chiudere la comune di Parigi un affare non classificato non classificabile e quindi questo anche credo che sia un po' l'elemento che fa della comune la sua singolarità ma nello stesso tempo anche la la sua contagiosità rispetto ai movimenti del presente finito scusate per la lunghezza grazie mille Francesco direi ricchezza di stimoli davvero scusate l'audio era estremamente importante la ricchezza di stimoli della della presentazione che ci hai fatto non preoccuparti per i tempi credo che abbiamo tutta la possibilità di anzi come dire rispondere in qualche modo a queste a queste sollecitazioni che ci sono arrivate io mi taccio faccio da solo momento di passaggio e indico quali sono le vie per prenotarsi con i propri interventi ovvero l'alzata di mano elettronica che Zoom ci consente di fare oppure una segnalazione sulla chat con il proprio nome e un asterisco in premessa oppure per chi vuole mettersi in video e alzare fisicamente la manina tenteremo di schippare come si dice tra una pagina e l'altra cercando di intravederla se potete evitare quest'ultima grazie manina elettronica o i miei chat sono modalità predilette lascio quindi la parola a chi tra i quasi 50 partecipanti di questa sera voglia intervenire ovviamente con un mandato di rompighiaccio a chi è più assuefatto a parlare in pubblico spero che c'è una manina lì è la manina di leonello al quale diamo la parola poi segue luca raiteri che l'ha appena alzata a sua volta vi chiedo di fare possibilmente delle domande e non dei veri propri interventi proprio per fare in modo che poi si sviluppi un dibattito a più voci possibili grazie quindi contenete i tempi delle vostre richieste bene grazie professor Brancaccio per la bella relazione molto interessante evidentemente il discorso sarebbe molto lungo ma cercherò di fare una domanda molto breve e una domanda però anche diciamo una affermazione nel senso che la Francia una prima considerazione la Francia è spesso all'avanguardia nelle idee e questo è una cosa che dobbiamo prenderne atto purtroppo come anche lei ha detto con l'espressione che ho segnato perché mi è piaciuta molto corrisponde molto a quello che vorrei dire è che oggi in Francia c'è il piccolo Napoleone attuale cioè purtroppo la Francia è all'avanguardia delle idee però non è all'avanguardia delle realizzazioni delle idee e questo purtroppo è un problema grave per la Francia che infatti per esempio per tornare al piccolo Napoleone la Francia ha iniziato ha fatto la rivoluzione della presa della Bastiglia hanno persino tagliato la testa a un re e poi hanno ancora oggi una specie di re elettorale che ha il diritto di sciogliere il Parlamento cioè il capo dell'esecutivo invece di essere sotto controllo dell'organo legislativo ha il potere di sciogliere il Parlamento cioè sono delle cose io come ho detto prima della riunione sono qui in Svizzera una Svizzera francofona la Francia è a sei chilometri da dove mi trovo in questo momento ci vado a piedi con una bella passeggiata purtroppo però gli svizzeri soprattutto gli svizzeri francofoni come sono quelli dove mi trovo io in questo momento parlano abbastanza spesso della Francia e di questo suo problema che è la domanda che voglio porre come è possibile che un paese che è spesso all'avanguardia nelle idee come manifestato durante la prima la rivoluzione francese quelle del 1700 dove hanno anche inventato la democrazia diretta moderna quella che affianca e non sostituisce il Parlamento l'organo legislativo quella che poi è in pratica qui in Svizzera poi hanno realizzato diverse altre cose proposto la realizzazione di diverse altre cose come quelle che lei ha detto della Comune di Perigi allora dobbiamo interrogarci e io faccio la domanda come è possibile come è possibile che un paese che sia all'avanguardia nelle idee poi è di fatto nella retroguardia nella loro realizzazione e ci hanno oggi il Napoleone il piccolo Napoleone moderno do subito la risposta che si che si dà qui in Svizzera nella Svizzera francofona su questo fatto perché spesso si parla della Francia spesso abbastanza spesso ma in modo anche molto ironico perché gli svizzeri francofoni hanno una certa sfiducia nei confronti dei francesi dei francesi dal punto di vista politico è limitatamente questo e la ragione che danno di questa cosa è perché dice sono violenti si organizzano volentieri assieme come i gilets jaunes i camacciotti gialli non so come si traduce i quali hanno fatto delle bellissime manifestazioni che però come devo dire gli svizzeri di qui prevedevano non hanno realizzato praticamente niente è perché purtroppo la rivoluzione del 1700 la comune di Parigi degenerano nelle forme violente e la violenza non è lo strumento più adatto a far progredire gli strumenti della democrazia questo è praticamente diciamo l'opinione che si ha qui nella regione nella quale mi trovo e io devo dire che la condivido piuttosto l'Italia anche avrebbe molti aspetti interessanti dal punto di vista del municipalismo grazie di aver citato Bok Chin ma io mi permetto di citare anche un bellissimo libretto sull'Italia dei comuni nel medioevo in Italia c'era un sistema politico leonello ti chiedo di stringere scusa smetto qua perché se no su questo potrei parlare anche troppo tempo mi capita delle volte mi fermo qui con la mia domanda secondo lei quali sono le ragioni per le quali diciamo c'è questa discrepanza tra le idee francesi e la realizzazione grazie leonello grazie davvero ecco io direi che raccogliamo anche la domanda di Luca Raiteri che invito subito quindi a collegarsi a porla in modo tale che invitando anche lui alla sintesi se possibile anche maggiore di quella di leonello in modo tale che andiamo poi a fare una risposta ad entrambe da parte di Francesco Brancaccio grazie sì grazie buonasera a tutti sono Luca Raiteri da Firenze e vi ringrazio per questa presentazione molto interessante ringrazio anche leonello Zaquini che diciamo è membro come me di fondatore di più democrazia Italia che è un'associazione che si occupa di democrazia partecipativa diretta sul modello svizzero e non solo dunque è difficile intervire perché ha fatto un bellissimo intervento molto completo quindi io cercherò di non ripetere quello che ha detto lui senz'altro in grado di molto meglio di me faccio un parallelo su quello che sta avvenendo adesso diciamo un po' qui in Italia anche a Firenze rispetto anche a un certo un certo modo di porsi in antitesi al sistema parlo del praticamente del cosiddetto dissenso dissenso rispetto a tutta una tematica che è partita con il Green Pass che viene considerato una forma di controllo sociale non solo una misura assettamente di medica di controllo della diffusione dell'epidemia si è formato un grande movimento che dopo quattro anni continua a esistere e si esprime in diverse forme in forme politiche diciamo partitiche tradizionali e anche però in forme che guardano proprio a un discorso di municipalismo di alternativa al sistema con una diversa ideologia considerando il sistema qualcosa prodotto da da un sistema di banche di poteri forti di famiglie più o meno che vengono da lontano tipo le aschenasi ci sono varie teorie in merito comunque c'è un'opposizione al sistema che però ha la somiglianza rispetto ai temi del comunialismo del municipalismo è proprio un ritorno a un controllo anche degli eletti a assemblee che possano sostituire anche il consiglio addirittura il consiglio comunale o trasformarlo in forme diverse in cui l'assemblea è sovrana e controlla gli eletti sono poi espressioni di questa assemblea e vengono eventualmente revocati e controllati e ci sono forme di referendum propositivi vincolanti insomma in linea con quello che avviene anche in Svizzera insomma come diceva Leonello ecco quindi dicevo ecco volevo la domanda è un po' se siete al corrente anche di queste nuove forme che fanno capo al dissenso qui a Firenze ci sono varie associazioni Neapolis con vari Neapolis che si praticamente si ispirano a questo movimento in antitesi a un sistema globale di controllo che guarda al transumanesimo al controllo sociale al controllo sanitario al controllo bancario che diciamo schiavizza il controllo capitalista insomma ecco viene inteso anche come controllo capitalista e quindi lo Stato diventa uno strumento del capitalismo e quindi è un braccio diciamo armato che permette al capitalismo di poter reprimere i cittadini e le vere libertà le libertà dei cittadini ecco volevo sapere se siete al corrente di questo che penso non sia solo un aspetto italiano perlomeno che in Italia c'è ed è forte perché se dopo quattro anni persiste e cosa se esiste anche in altre nazioni e cosa ne pensate grazie grazie Luca allora comincio a far rispondere Francesco su questi due quesiti dico anche grazie allora dico anche a chi li ha posti in chat altri due che arrivano che ci sarà spazio anche per voi quindi lascio a Francesco c'è anzi altri tre perché c'è anche un intervento da Bari e poi lascerò la parola è possibile approfondire ancora come attualmente si può pensare il municipalismo oggi e poi vorrei capire meglio la differenza tra municipalismo e comunitarismo non comunitarismo il T9 perché sono due cose molto diverse esattamente comunalismo infatti li avrei tenuti un attimo dopo così facciamo in blocco la risposta ai primi due interventi ok allora per quanto riguarda grazie per questi interventi allora per quanto riguarda il primo la prima risposta che posso dare in maniera forse un po' brutale è che è vero la Francia è un laboratorio di idee di pratiche politiche all'avanguardia dal punto di vista dei movimenti di emancipazione ma anche dal punto di vista della reazione del potere a questi movimenti di emancipazione quindi in realtà la situazione che oggi si vive è la misura anche dell'intensità della ricchezza che queste lotte hanno prodotto a cui un contesto chiaramente differente dal secondo impero per quanto riguarda il modello economico neoliberale che che caratterizza il macronismo laddove invece come abbiamo visto nel secondo impero c'era uno degli elementi di stato sociale per quanto autoritari militarizzati repressivi però questa è una grande differenza di modello economico e di gestione politica della società però appunto la brutalità la questione della violenza gli svizzeri non mi stupisce che abbiano questa diciamo visione della 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 violenza in Francia perché appunto come tu l'hai ben spiegato si procede molto c'è un grado di conflittualità sociale molto più basso in Svizzera per quanto non assente e soprattutto c'è questa pratica del referendum pensate che una delle rivendicazioni principali dei gilet jaune era il cosiddetto RIC referendum di iniziativa cittadina perché in Francia si è per la costituzione della quinta repubblica perché questo è un po' il tema di cui stiamo discutendo per rispondere alla tua domanda leonello la costituzione della quinta repubblica prevede un referendum di iniziativa condivisa RIP referendum di iniziative partagée che per essere presentato richiede un quorum e delle modalità procedurali estremamente più complesse di come le conosciamo in Italia cioè bisogna arrivare a superare due milioni e mezzo di firme in un tempo strettissimo considerate che non si presentano quasi mai referendum perché la costituzione della quinta repubblica per quanto lo preveda lo rende impossibile quindi gli unici referendum che si possono fare sono l'appello al popolo dall'alto che il presidente della repubblica questo è proprio il modello che De Gaulle ha pensato per la quinta repubblica può diciamo fare infatti i fascisti adesso chiedono che se vanno al potere dicono la prima cosa che facciamo facciamo un referendum sull'immigrazione perché solo il presidente della repubblica può farlo quindi la questione della violenza è un tema però vorrei precisare che tornando alla comune che la violenza è quella dei versagliesi insomma cioè basta le cifre che vi ho dato sono abbastanza chiare e se pensiamo in un contesto in una scala differente per esempio al caso dei gilet john è stato abbastanza impressionante devo dirvi che io una cosa del genere c'è questa repressione così puntuale così diffusa così così brutale sì c'è stata Genova in Italia abbiamo avuto una pesante stagione di repressione in Italia ma vedere comunque 25 26 persone che perdono un occhio una decina che perdono una mano in manifestazioni gente comune tra l'altro non militanti politici dediti alle manifestazioni tutti i giorni è stata comunque più la quantità di arresti eccetera quindi comunque la violenza il livello della violenza è sempre determinato ahimè dallo Stato dopodiché è chiaro che si può discutere sull'utilità la non utilità di alcune pratiche quando come perché però diciamo che il macro tema è questo qui però sono d'accordo con te sul fatto che c'è un certo stupore perché però non è che non hanno non è che questi movimenti non hanno ottenuto niente nel senso che se a giugno adesso purtroppo i fatti successivi forse ce l'hanno fatto un po' dimenticare però comunque c'è stato un momento tra il primo e il secondo turno nel cui la sinistra ha vinto cioè nonostante poi non sia stata riconosciuta la vittoria da parte del Presidente della Repubblica e sia stata partorita una mostruosità che il governo attuale e quindi c'è stata sia sul piano della rappresentanza un'accumulazione dal punto di vista delle lotte e soprattutto un rapporto di forza che si è instaurato nella società che è permanente che permette anche sia delle sperimentazioni istituzionali delle istituzioni ufficiali sia delle istituzioni alternative che anche diciamo delle delle forme diciamo di riproduzione del conflitto che sono un po' quello che che servirebbe un po' ovunque insomma del conflitto sociale e per quanto riguarda l'altro intervento allora io non conosco molto bene so che ci sono stati anche in Francia nel periodo del del lockdown dei movimenti che hanno fatto il legame tra hanno messo hanno creato un legame tra la questione del pass sanitaire che comunque in Francia c'era ma non era così pesante come in Italia al senso che non c'era non è stato attaccato il diritto al lavoro per esempio nel modo in cui è stato intaccato in Italia per quanto poi c'era questo dispositivo che a un certo punto ci è sembrato più comico che tragico nel senso che chiaramente era una limitazione di alcune libertà ma poi nella sua applicazione concreta era davvero ridicolo e poi soprattutto il governo è passato da fasi Macron è uno che ha la capacità anche lo si riconosce qui come nello stesso tempo l'uno e l'opposto c'era per la pace il dialogo con la Russia e poi bisognava inviare i militari russi a fare la guerra e sul Green Pass ha fatto la stessa cosa c'è stato un periodo nel quale riduceva quasi a negare la gravità dell'epidemia interpretando in maniera arbitraria i dati epidemiologici e altre fasi nei quali invece era il protettore della salute universale quindi diciamo è stato un periodo molto caotico nel quale chiaramente ci sono stati alcuni movimenti importanti per esempio delle manifestazioni che sono arrivate fino a Bruxelles però io quello che ho visto poi è che questo tipo di movimenti sono confluiti soprattutto in un movimento di estrema destra che si chiama i Patriot che è un po' una scissione del Front National che ha costruito delle manifestazioni quindi il legame tra questi vari aspetti cioè transumanesimo banche governo mondiale eccetera è stato completamente assorbito in quel tipo di discorso politico e questo è stato anche un po' problematico dopodiché quello che dicevi sullo Stato come uno strumento del capitalismo sono d'accordo e direi di più cioè lo Stato è sempre stato uno strumento del capitalismo per questo la Comune di Parigi ha aperto lo spazio del dibattito sull'estinzione dello Stato e sulla creazione di istituzioni alternative cioè parte delle fasi diciamo di compromesso social democratico che possono essere ricondotte al periodo del New Deal e del compromesso fordista ma anche lì diciamo lo Stato non era un attore indipendente dal capitale però diciamo che lo Stato è sempre stato in stretto legame con i movimenti del capitale in alcune fasi giocando un ruolo di maggiore regolazione in altre fasi essendone un promotore attivo come accade nella fase del neoliberalismo attuale grazie Francesco le risposte mi sembrano esaurienti su questo pezzo manca forse appunto un qualche riferimento ad alcune esperienze italiane che in effetti sono in corso di svolgimento in questo in questo periodo un po' a macchia di leopardo in giro per il paese che hanno quelle caratteristiche ma insomma come dire facciamo che su questo pezzettino magari avremo modo anche di ritornare ma per il momento passerei anche per una questione di tempi a dare risposta o quantomeno dare retta a quello che come già leggevi tu in chat prima ci chiedeva Mauro Corticelli cioè se fosse possibile approfondire ancora come attualmente si può pensare ecco al municipalismo oggi e quindi e poi rispetto alla differenza che come hai precisato è quella tra municipalismo e comunalismo che è quella che Marco ci chiede di approfondire lascio poi uno spazio dopo che tu avrai risposto a questi due stimoli all'intervento che Totò Caccese ci chiede da Bari molto volentieri e quindi ti lascio per il momento la parola quindi rispondo alle domande scritte sì esatto allora per quanto riguarda allora ho precisato prima che per me la distinzione tra municipalismo e comunalismo non va affrontata solo come un dibattito dottrinale bisogna nella pratica vedere anche quali sono le zone di di ibridazione di compenetrazione tra queste due queste due teorie e pratiche politiche per esempio qualcos'è il neomunicipalismo perché di quello stiamo parlando non parliamo del municipalismo storico ma del neomunicipalismo il neomunicipalismo possiamo ricondurlo nella fase più fiorente all'inizio degli anni 2010 in particolare un evento di cui si è parlato la scorsa volta è il 2015 in Spagna quindi le comuni del cambio del cambiamento che ricordiamoci non è un'esperienza isolata che nasce qua e là ma sono le principali città spagnole che vanno presentano delle piattaforme si chiamano piattaforme in Spagna che vanno al potere comunale esercitando quindi diciamo quella che per esempio in Barcellona si diceva occupare le istituzioni visto che prima occupavano le case occupiamo le istituzioni ed è una fase assolutamente fondamentale nel quale si mettono in campo delle delle riforme municipali delle politiche progressiste però diciamo che rispetto alle ambizioni originarie qualcosa non è stato compiuto io non sono uno specialista poi al punto tale da poter tirarne delle conseguenze così nette però è chiaro che è chiaro che la 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 questione per esempio un convegno che era stato organizzato di cui ci sono degli atti che circolano anche in rete c'era anche la compagna di Bok Chin che era intervenuta no? quindi cioè il municipalismo rappresentato alle nella nella sua fase nascente come una sorta di preludio al comunalismo quindi diciamo qual è la grande differenza tra il municipalismo e il comunalismo che il municipalismo cerca di innovare sul piano della politica e della valorizzazione della partecipazione dal basso attraverso l'occupazione delle istituzioni in un contesto che all'epoca era favorevole e nello stesso tempo la prospettiva di lungo periodo qual è? I comunalisti dicono che la prospettiva di lungo periodo è quella di sostituire alle istituzioni che dipendono dallo stato verticale delle nuove istituzioni fondate piuttosto su una logica comunalista e di autogoverno quindi diciamo che nel municipalismo secondo questo dibattito dottrinario la questione della rimessa in discussione della sovranità statale non sarebbe un obiettivo strategico laddove invece il comunalismo se lo pone dopodiché è chiaro che quando parliamo del comunalismo e delle sue esperienze realmente effettive cioè realizzate parliamo di esperienze nelle quali c'è una situazione tra una insurrezione armata nel caso è una riscrittura dei confini territoriali come nel caso del confederalismo del Rojava quindi una situazione comunque di guerra con un'economia di guerra nel caso del Chiapas anche è una forma diciamo di autonomia di autogoverno e di secessione di un territorio questo non vuol dire che quelle siano utopie lontane che non possano essere sperimentate però diciamo che dal punto di vista concreto di questo stiamo parlando cioè stiamo parlando quando parliamo del comunalismo di cose che sono state sperimentate in Rojava e in Chiapas e quando parliamo del municipalismo di un movimento che si è sviluppato in Europa per esempio anche in Italia nel caso di Napoli ma non solo anche con Marco a Roma avevamo tentato un percorso municipalista così come con il percorso di Decide Roma così come per esempio negli Stati Uniti si conosce poco dalle nostre parti quello che accade negli Stati Uniti ma negli Stati Uniti c'è un movimento municipalista sviluppatissimo con una rete che si è costituita sarebbe interessante anche entrare in contatto con quindi diciamo questa dal punto di vista della definizione possiamo dire almeno la letteratura che distingue comunalismo e municipalismo sulla base di un'analisi delle esperienze concrete e del dibattito teorico-politico la distinzione che il municipalismo è una forma di riformismo radicale da dove il comunalismo in una prospettiva strategica punta a sostituire le istituzioni dello Stato con altre istituzioni ma ricordiamoci quello che dicevo prima cioè che il comunalismo implica anche una fase transitoria infatti per questo Bokjin che parla di comunalismo non più di municipalismo libertario per dibattere anche con le componenti anarchiche che vogliono invece il disfacimento immediato di tutte le istituzioni Bokjin dice si può andare alle elezioni a livello municipale e accanto alle elezioni istituire delle assemblee che controllano l'operato di queste istituzioni che sono state modificate dall'ingresso anche di eletti con mandato imperativo delle istituzioni che fanno esercitano una sorta di contropotere in vista di affermare una situazione di dualismo in potere in vista di un cambio complessivo delle istituzioni quindi uno potrebbe anche dire il municipalismo potrebbe essere una fase in vista del comunalismo potremmo anche metterla così quello cercavo di dire prima è stato un dibattito per esempio che nei gilet giorni è stato molto molto sviluppato per esempio tra comunalismo municipalismo come strategie alternative oppure come delle tappe di uno stesso percorso grazie Francesco credo che quest'ultima tua come dire puntualizzazione o anche approfondimento sia stata proprio quella che ci ha permesso di fare un salto ulteriore da quello che era un ragionamento più diciamo di definizione di teoria a un qualche cosa di come dire praticabile ecco per quelle che sono state le esperienze che fino a questo momento in qualche modo si stanno tentando di portare avanti quindi te ne ringrazio in particolare e do spazio all'intervento da Bari mentre appunto comincio a vedere i primi saluti di chi ha esaurito il proprio tempo a disposizione per cui chiedo quindi a Totò Cagese della Casa del Popolo di Bari di intervenire tenendo conto anche di una tempistica che sta arrivando alla fine ecco Totò che ha preso posto nella sua postazione quindi gli chiedo di poter fare il suo intervento con possibile domanda nei confronti di Francesco Brancaccio direi che dopo questo possiamo tendenzialmente andare a chiudere quindi prego buonasera sono Emilio Mastrorocco invece non 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 Tocca a Gese una domanda secca scusa Emilio mi interessava sapere come nel tempo in cui diciamo la la comune è vissuta come in che maniera gli eletti potevano essere revocati e se agli atti risultano storicamente queste revoche di mandato elettorale diciamo elettorale mandato di rappresentanza e se c'erano anche dei momenti periodici dove ci siano stati in cui gli eletti rispondevano direttamente alla alla comunità tutto qui grazie grazie per la sintesi vai Francesco questa è una delle critiche comunaliste alla comune di Parigi che si può fare cioè che è stata fatta cioè che queste forme di controllo e queste forme di revoca revoca degli dei rappresentanti è stata poco messa in in atto e che probabilmente la comune di Parigi avrebbe dovuto ancora più decentralizzarsi cioè oltre al consiglio della comune istituire fin da subito delle forme di comune a livello degli arrondissements cioè dei consigli dei municipi oltre che a quello del consiglio comunale c'è però da dire che nella volontà nelle intenzioni nei proclami della comune di Parigi tutta questa idea di decentralizzazione ulteriore era assolutamente negli obiettivi e nello spirito dell'epoca in 72 giorni con bombardamenti quotidiani dei cannoni di Versailles e una situazione nella quale si doveva far fronte alla guerra era difficile di mettere in atto tutto questo anche se i dibattiti le misure prese dal consiglio della comune erano fortemente poi contestati rimessi in discussione oppure venivano proposte degli emendamenti per meglio svilupparli in queste assemblee per lo più informali che circondavano la città e anche l'Aaron d'Ismond di Parigi quindi da questo punto di vista questa domanda è molto pertinente perché mette in luce un limite che però è un limite a mio avviso che fa parte un po' del contesto storico nel quale la comune si situa però c'erano alcune cose interessanti per esempio una cosa che non ho detto all'interno della comune c'era anche un delegato della federazione degli artisti che si erano costituiti in federazione questo delegato era strettamente legato a questa federazione degli artisti e ognuno dei delegati doveva comunque rispondere al loro elettorato di riferimento che anche se era un elettorato diciamo che comprendeva tutti coloro che erano andati a votare aveva comunque diciamo una base corporativa lavorativa abbastanza importante che era il luogo di riferimento nel quale il deputato rendeva conto delle sue azioni in particolare perché poi il consiglio era costituito con delle commissioni c'era la commissione dell'economia dell'industria e del lavoro che era quella più importante queste commissioni rendevano conto alle assemblee popolari che si svolgevano fuori dal consiglio della comune queste assemblee popolari però non sono state altrettanto istituzionalizzate come l'assemblea che si riuniva all'hotel Deauville che era il consiglio della comune di Parigi grazie Francesco allora evidentemente gli ultimatum non sono nel mio DNA perché ho visto che anche oltre il tempo massimo Vittorio ha chiesto la parola allora do prima Derminio che in ordine cronologico l'ha chiesta l'invito ad entrambi ovviamente quello a limitarsi sicuramente sicuramente io ho apprezzato molto gli interventi del professore e ritengo ritengo noi anche i miei amici di essere in perfetta sintonia con quanto ho presentato però rispetto a discorsi un po' più pindarici dei miei amici io mi fermo da ingegnere andare a cercare qualcosa di molto preciso che va in questo senso noi stiamo lottando per portare in Italia riprendersi comuni attraverso lo strumento che adesso è applicato a Barcellona e molte altre realtà e siamo già preparati per divulgare in tutto il territorio gli elementi informativi dettagliati per portare nei vari comuni contattando i comuni o chi è responsabile dentro i comuni che vuole questa cosa e pensiamo che sia effettivamente esattamente quello che voi avete detto non siete conoscenti quale strumento scusami decidi che è lo strumento su cui fa riferimento Barcellona anche Roma anche Napoli anche Milano va bene nello stato italiano forse non è molto chiaro obbligati a mettere uno strumento partecipativo da parte del PNR e dall'Ox dell'Ox nato Ox un altro nome questi strumenti obbligati e devono rispondere a queste diciamo così non obblighi ma inviti raccomandazioni e stanno gestendo da due anni questo tipo di presenza sul territorio hanno già addestrato più di mille più funzionari che sono in grado di gestire questo strumento loro si mettono come terze parti con i funzionari non è così però partiamo con questa con questa strategia a me piacerebbe parlare di questo perché purtroppo i nostri relatori di solito hanno un certo limite sono molto bravi non per te ma per tutti proprio generali hanno capacissimi di fare tutte le analisi possibile non ne ho trovato ancora uno che fa una proposta concreta per superare da quello che loro hanno analizzato perfettamente forse tocca a noi cittadini farlo più che loro perché hanno un ruolo di lavoro che forse gli impedisce di sporsi troppo alla Marx o a Engel o altre realtà dove lì non c'era questo problema io lo do così e non per Blancaccio anzi altri molto teorici molto bravi si fermano sempre barbero così si fermano sempre solo a questo mannaggia finisco tutto chiaro Erminio dimmi prima di far parlare Francesco che poi si difenderà da par su a parte gli scherzi ma non mi sono sentito attaccato l'idea no sto scherzando Francesco ma l'idea è proprio questa nel senso che la panoramica ci serve proprio per poi come dire sviluppare un dibattito che possa approfondire anche a partire dalle esperienze concrete alcune delle quali peraltro sono già comparse all'interno come dire di quanto ci è stato detto finora in questo corso e tentare di trarre non dico una sintesi ma quantomeno degli spunti di azione perché come ricordo la logica di attacca è quella di formarsi e autoformarsi in maniera sempre orientata ad un'azione che poi è quella territoriale ti lascio rapidamente la parola e poi scusa Erminio ma chiuso finisci rapidissimamente perché è tardissimo facciamo la battaglia per portare questo strumento in tutto il territorio nazionale è possibile questa presa del Comune chiuso grazie scusa mi sembrava già contenuto in quanto dicevi prima l'avevo data per scontata grazie Francesco a te e poi Vittorio andiamo a chiudere no volevo solo dire che per quanto riguarda Desidim che la piattaforma la conosco anche abbastanza bene e e anche per quanto riguarda una delle domande che ho visto nella chat sul bilancio partecipato come quella di Portoallegre cioè che cosa ne pensi di esperienze allora tutti questi strumenti per me sono assolutamente da utilizzare cioè non non è che se io ho fatto una ricostruzione della Comune come un evento politico rivoluzionario e vi ho prosto diciamo la distinzione perché è una distinzione che attraversa i dibattiti politici non solo nell'università ma soprattutto nei movimenti e nelle lotte tra comunalismo e municipalismo perché è importante comunque distinguere diciamo le differenti opzioni sulle quali si costruiscono delle strategie politiche e Decidim lo conosco abbastanza bene e può essere uno strumento sicuramente più utile più utilizzabile rispetto a delle piattaforme proprietarie bisognerebbe però oltre che a importarlo anche farlo vivere all'interno di processi che si svolgono nel luogo in cui questa piattaforma è utilizzata perché per esempio in Francia Decidim lo usano soprattutto i comuni governati dal partito socialista che hanno comprato la piattaforma da Barcellona quindi non è solo una cosa uno strumento in mano all'auto-organizzazione dei cittadini ma è anche uno strumento in mano a dei comuni che tra l'altro sono a volte governati dalla destra del partito socialista che utilizzano questi strumenti per legittimare con una retorica partecipazionista la loro azione di governo quindi lo strumento tecnico in sé deve essere sempre legato a un progetto politico ci può essere una strategia di uso di Decidim per affermare un reale municipalismo ma nei fatti sappiate che Decidim è utilizzato anche come uno strumento di rinnovo un po' tecnocratico da governance urbana e a volte come forma di cooptazione l'esperienza del bilancio partecipato di Porta è stata straordinaria il periodo di Porta Allegra è stato straordinario anche lì oggi ci troviamo di fronte a delle forme di bilancio partecipato che hanno perso un po' lo spirito di Porta Allegra e sono degli strumenti di consultazione dall'alto che però non affidano ai cittadini un reale potere decisionale quindi è sempre sulla crinale tra partecipazione non è così scusate non iniziamo un dibattito era una precisissima no guarda Erminio mi permetto perché sono veramente le 8 meno 5 ringrazio per l'interazione parliamo dopo a chiusura ecco Francesco per la risposta dopo di che ripeto bilancio partecipativo decidim è quello che vogliamo fare da utilizzare vogliamo fare quello come vogliamo fare proprio questo come elemento educativo per la partecipazione della comunità italiana come obbligo che entra nel concreto e lì incarna nella gente ecco la risposta di Francesco che ringrazio anche per la nostra Sandra Cangemi e quindi grazie mille per averla colta direttamente dalla chat Vittorio e poi un momento di chiusura per l'Ale lezione di oggi grazie sì ciao Francesco e complimenti come sempre sia per la chiarezza che per la profondità dell'analisi siccome hai citato Decide Roma un percorso che abbiamo fatto assieme con la partecipazione di Attacca e che si è incentrato molto come dire c'è anche sulla questione del debito stesso ragionamento che vale per Napoli di Massa Critica e Massa Critica ha portato a casa l'istituzione della consulta dell'audit del debito e sulle risorse del Comune di Napoli io volevo provare a portare l'analisi sulle situazioni italiane come dire abbiamo avuto la spalmata delle situazioni nazionali allora queste due esperienze come si possono inserire in questo municipalismo cos'erano e dove si sono arenate e lo stesso come dire c'è la rete italiana sui Commons oppure gli stessi Notav come si possono connotare in questo percorso perché alcune delle esperienze sono esperienze trentennali rimangono è chiaro che nascono su un obiettivo di scopo ma poi come dire affrontano tutte le tematiche la rappresentanza la parte femminile importante ecco questo un tuo pensiero sulle esperienze italiane magari non ne ho citate qualcuna che puoi enucleare tu enunciare grazie grazie per questo intervento non sono in grado di rispondere a tutte le questioni che tu sollevi ma mi sembra importante allora a mio avviso il periodo massa critica Decide Roma è un periodo estremamente fertile di una strategia municipalista che in parte è anche comunalista nel senso che l'obiettivo sia di massa critica che di Decide Roma in contesti diversi era quello di creare delle forme di controllo popolare dall'esterno e poi ipotizzare anche nel caso dei cambiamenti istituzionali all'interno quindi in realtà questo questo livello di controllo popolare di assemblee che dall'esterno hanno sia una funzione di politicizzazione che una funzione di proposta attorno al tema in più Decide Roma ha avuto anche questa grande capacità di mettere insieme l'economia sociale i centri sociali e le realtà più politicizzate cosa assolutamente fondamentale sul piano strategico e poi perché si sono arenate le motivazioni sono molteplici un aspetto a mio avviso importante che mette luce anche i limiti del municipalismo in Italia come in Spagna è che quando il contesto politico generale cambia non è che le città sono delle isole felici quindi in realtà abbiamo visto che in Spagna nel 2019 è già stato diverso dal 2015 perché ci sono state delle evoluzioni anche nell'assetto politico complessivo della monarchia repubblicana spagnola e nel caso dell'Italia invece Massacriti che aveva dalla sua un sindaco che era più aperto alla negoziazione laddove invece aveva avuto più difficoltà a Roma con il governo dei 5 Stelle quindi le ragioni possono essere individuate sia sul piano locale ma poi anche sul piano più generale c'è stato un po' un esaurimento del movimento municipalista ma questa è pure una domanda che io rivolgo a voi perché forse voi saprete rispondere meglio di quanto non lo possa fare io sul piano del dibattito internazionale o di come questo dibattito italiano ricade in Francia questo ve lo posso dire c'è una grandissima interesse una grandissima curiosità per il periodo municipalista italiano che va dal referendum a ciò che segue al referendum sull'acqua cioè i beni comuni urbani fino ai tentativi o ai veri e propri esperimenti municipalisti come Napoli Roma e c'è anche dei distinguo che si fanno per esempio tra l'esperienza napoletana e quella bolognese che sono entrambe esprimono una vocazione municipalista ma con dei caratteri ben differenti quindi c'è in questo momento in Francia un interesse per come sono andate le cose in Italia molto molto sviluppato e c'è un po' una delusione per come le cose sono andate in Spagna perché poi i limiti del progetto spagnolo non possiamo nasconderceli nel senso pensate che quando la seconda volta Ada Colau è stata eletta è stata eletta anche al grazie può essere un aneddoto ma non è un aneddoto al voto di Manuel Valls che potete immaginare qui era ministro all'interno e poi primo ministro durante la loi travail non è stata proprio dal punto di vista anche della fascinazione che l'esperienza di Barcellona esercitava sul piano internazionale una cosa che ha aiutato per quanto ripeto cioè queste esperienze incompiute sono incompiute ma non sono una questione di archivio anzi può darsi che una nuova stagione municipalista si riaprirà può darsi che la strategia municipalista ha ancora di fronte a sé tanta strada da percorrere forse dovremmo imparare fare anche delle sessioni nelle quali tematizziamo i limiti di queste esperienze non per dirci abbiamo sbagliato ma per capire quali sono i punti di blocco che si sono incontrati e quali sono gli elementi che invece hanno anticipato qualcosa che potrebbe essere ancora di là da costruire mentre io ringrazio Francesco perché colgo nella lezione di oggi e vado davvero a sintetizzare perché è tardissimo un ulteriore passettino in avanti che abbiamo fatto nel nostro corso che è quello di cercare sempre di più adesso che siamo entrati dopo l'introduzione generale della volta scorsa nel tema insomma di collocarlo proprio ancorandolo alle realtà che poi si sono in qualche modo sviluppate che hanno preso forma che sono fallite che sono rimaste lì insomma e colgo con favore il fatto che siano tuttora oggetto di interesse e non d'archivio come ci dicevi poc'anzi questo ci come dire da ulteriore verve per affrontare il proseguo del nostro percorso quindi io ringrazio Francesco Brancaccio per il suo intervento e rimando a tutti e tutti quanti voi relatori incluso l'invito a partecipare a quello che sarà il nostro prossimo appuntamento che ve lo ricordo è previsto per l'11 di novembre in merito all'esperienza di autogoverno delle comunità zapatiste in Chabas il relatore sarà Raul Zibesci che in tanti conosciamo non solo come su tempo giornalista ma anche educatore popolare anche in Italia per i suoi contributi sempre molto attenti precisi puntuali e costanti su comune.info che è uno dei siti che abbastanza frequentiamo mentre ringrazio ancora Emilio per le considerazioni che ulteriormente registriamo all'interno della chat io quindi direi che ci possiamo rivedere alle 18 dell'11 di novembre per proseguire in questo cammino che mi sembra oggi abbia segnato un'altra tappa importante verso una consapevolezza sempre maggiore del tema che intendiamo affrontare grazie ancora grazie per il dibattito grazie per tutti gli interventi e ci mancherebbe altro grazie mille a te per davvero le suggestioni che ci hai portato andiamo avanti grazie buona serata a tutte e tutti ciao buona serata a tutti